L'area di specializzazione ORL, otorino-aringoiatria, è un'area di patologie abbastanza ampie. Iniziamo a parlare delle vie respiratorie, quindi di tutta la parte infettivologica, le infezioni recidivanti, i disturbi respiratori, i disturbi nasali, la difficoltà respiratoria nasale, tutti i disturbi collegati ad essa, quindi i disturbi respiratori notturni, il russamento, una patologia assai diffusa, oggi le apnee ostruttive notturne che hanno assunto un'importanza enorme per il discorso delle patenti di guida, tutta la patologia dell'equilibrio, patologia in comune con i neurologi, patologia assai complessa, le algie del collo, le algie facciali, tutta la patologia neoformativa espansiva del collo stesso e con esse anche tutta la patologia tumorale di questo distretto, dalla parte nasale alla parte del cavorale, della via respiratoria e dei linfonodi.